Si ripartirà dal 3-1 esterno sul Troina per tentare di portare a termine un'impresa storica. L'Igea Virtus guidata da Peppe Raffaele domani farà visita all'Ercolanese per 90 minuti cruciali, validi per la finale play-off del Gironei. Un match decisivo per la stagione dei barcellonesi che hanno già compiuto un miracolo sportivo di enorme portata, come spesso sottolineato dallo stesso tecnico durante la stagione, e che dopo aver battuto la corazzata Troina grazie a un primo tempo eccezionale, non vuole fermarsi di fronte all'ostacolo campano. Raffaele recupererà due pedine fondamentali del proprio scacchiere, Biondi e Pitarresi, rispettivamente in panchina e in tribuna domenica scorsa, e dovrà valutare le condizioni di ventre e cinquegrana, febbricitanti negli ultimi giorni ma disponibili domani. Il dubbio più grande potrebbe essere legato ai problemi alla caviglia accusati da Mercai, che però dovrebbe stringere i denti per una gara così importante. Tutti vogliono giocare la finale sul campo dell'Ercolanese e tutti vogliono vincerla per portare l'Igea Virtus ancora più in alto e regalare un sorriso ai tifosi barcellonesi, che in settimana hanno avuto tempo per ripensare alle parole del presidente Grasso. Squadra riconsegnata al sindaco e cambio di proprietà se dovessero arrivare offerte consone al valore di una società che negli ultimi anni si è ritagliata a un posto ben visibile sul palcoscenico della Serie D. Ma ora conta solo il calcio giocato, 90 minuti per conquistare una vittoria storica e dimostrare ancora una volta tutto il proprio talento.